Il 28 maggio ha compiuto 42 anni. La bionda ha festeggiato il compleanno a Formentera insieme al compagno Marcello Corso. . È il primo che, almeno ufficialmente, trascorrono insieme. La coppia, infatti, è uscita allo scoperto ad agosto dell'anno scorso. Compleanno Formenteregno con il mio Marcellino, scrive la festeggiata sui social. . Ele Noire ha festeggiato il compleanno sotto il caldo sole di Formentera. La Casa Legno sul suo profilo sociale ha condiviso un breve video che la mostra intenta a soffiare su un delizioso dolce. . Peccato che la candelina non si spenga e diventa così protagonista di un simpatico siparietto. . Naturalmente i follower fanno alla bionda ex geffina di tantissimi auguri di compleanno. . I fan di Ele Noire su Instagram le dimostrano tantissimo affetto con i loro commenti. . Per la Casa Legno il 42esimo compleanno è sicuramente speciale. L'amore con il suo Marcellino prosegue a gronchi e vele e non poteva festeggiarlo in modo migliore, con una rilassante vacanza a Formentera. . Ele Noire ha così già inaugurato la stagione estiva brindando ai suoi anni, portati splendidamente, sotto il cielo delle Baleari, uno dei suoi posti preferiti, dove spesso trascorre soggiorni all'insegna dell'allegria. . . . . . .